Tra i punti interrogativi più grandi relativi all'emergenza Covid-19 c'è sicuramente la ripresa dell'anno scolastico. In Campania la data del ritorno in classe è stata fissata per il prossimo 14 settembre, ma resta ancora da capire se e quanto gli edifici scolastici dovranno adeguare i propri spazi per rispettare le norme relative all'accoglienza di studenti e docenti. Per questa finalità il Comune di Cava dei Tirreni ha chiesto ed ottenuto dal Ministero dell'Istruzione un finanziamento di 310.000 euro per realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche e degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico e definire misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19. Il Servizio Tecnico del IV Settore Lavori Pubblici e Manutenzione nelle scorse settimane ha effettuato una ricognizione nelle scuole ed ha raccolto le richieste delle direzioni didattiche circa ulteriori spazi per sistemare studenti mediante demolizione di pareti, costruzione di altre lì dove necessario. Inoltre dovendo reperire ulteriori spazi in alcuni istituti vi è la necessità di recuperare servizi igienici dismessi per mancanza di interventi manutentivi e di seguire interventi di riparazione o sostituzione di guaine impermeabili in copertura per problemi di infiltrazioni che si manifestano in questi ambienti. Per velocizzare le procedure è stato deciso di predisporre due schede progettuali suddividendo i sei istituti comprensivi in due blocchi. Il primo che comprende quelli ricadenti nel versante orientale della città ovvero gli istituti comprensivi Don Bosco Balzico e Giovanni XXIII ed il secondo che invece raggruppa quelli ubicati sul versante occidentale della valle metelliana e quindi Carducci Trezza, San Nicola e Santa Lucia. Ora dovrà essere aggiornato il piano triennale dei lavori pubblici con l'inserimento degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche nell'elenco annuale 2020 per l'importo complessivo di 310 mila euro. Cava dei Tirreni ancora sotto osservazione per le numerose segnalazioni di incendi di sterpaie. Le frazioni, le zone più colpite del territorio metelliano, alture dalle quali si inalza praticamente ogni giorno una coltre di fumo potenzialmente cancerogeno. In alcuni casi l'odore acre dell'incendio raggiunge anche il centro cittadino rendendo impossibile lasciare aperte porte e finestre. Radicata nel tempo l'abitudine di bruciare ogni tipo di oggetto e materiale nel proprio fondo o giardino anziché invece smaltire i rifiuti nelle apposite aree ecologiche è diventata negli ultimi anni una problematica importante per la quale bisogna prendere delle decisioni più drastiche. Per questo motivo dall'amministrazione comunale continua la task force contro gli incivili appellandosi alla sensibilità di quanti hanno ancora questo antico retaggio di pulire i propri terreni incendiando le sterpaie. Ricordiamo che tali comportamenti sono illegali e creano danni e disagi a quanti si trovano nelle vicinanze. Le pene previste per i trasgressori del divieto di accensione dei fuochi vanno da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 10.329 euro oltre ad incorrere nella denuncia penale per il reato di incendio se questo è di natura boschiva. Per contrastare l'insano metodo di smaltimento dei rifiuti l'amministrazione comunale ha annunciato che sono state allertate tutte le forze dell'ordine, il corpo forestale, gli ispettori ambientali e la protezione civile con la predisposizione di verifiche a tappeto, utilizzando anche i più innovativi e moderni sistemi tecnologici di avvistamento. Si avvicina la scadenza del termine ultimo per la presentazione ufficiale delle liste in vista delle elezioni amministrative in programma il prossimo 20 e 21 settembre. Negli oltre mille comuni italiani chiamati al voto c'è tempo fino alle ore 12 di sabato 22 agosto per presentare le liste. A Cava dei Tirreni al momento sono sette i candidati che hanno già annunciato la loro candidatura a sindaco. L'ultimo in ordine di tempo ad ufficializzare la sua discesa in campo è stato il 28enne Davide Trezza, leader cittadino e coordinatore nazionale di poteri al popolo. Davide Trezza si aggiunge agli altri sei che già da settimane hanno avviato la loro campagna elettorale. In prima linea c'è ovviamente il sindaco uscente Vincenzo Servalli che punta al BIS. Con lui ci saranno sei liste, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano e le civiche insieme per Servalli Sindaco, Unione Popolare, Cava Avanti e Cava Ci appartiene. Il centrodestra con Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc e il Movimento Civico Siamo Cavesi invece punta tutto su Marcello Murolo. In corsa per la carica di sindaco ci sono anche Enrico Bastolla sostenuto da Liberi di e Cava per Cava e Giuseppe Benevento del Movimento 5 Stelle che ieri sera ha inaugurato, insieme alla candidata alla presidente della regione campania Valeria Ciarambino, il suo spazio elettorale in corso Umberto I. Questa sera invece in Piazza Duomo Umberto Ferrigno presenterà ufficialmente alla città la lista identità e tradizione che sosterrà la sua candidatura a sindaco. Pronto alla tornata elettorale anche Luigi Petrone che, oltre alla fratellanza, ha varato anche un'altra lista civica denominata Giovani per Luigi Petrone sindaco. Tra i 21 comuni della provincia di Salerno chiamati alle urne ci sono anche Amalfi e Maiori. Ad Amalfi, comune capofila della costiera, la sfida sarà tra l'uscente Daniele Milano ed il suo predecessore Alfonso del Pizzo. A Maiori invece il primo cittadino uscente Antonio Capone dovrebbe vedersela con Lucia Mammato che rappresenta la minoranza e con Maddalena Romano che guida un nuovo sodalizio indipendente. Il giallo di Lega Ambiente ad incuriosire i bagnanti in spiaggia a Salerno. Blitz di Lega Ambiente questa mattina contro il cemento illegale che da anni deturpa le bellezze della regione, nemico del mare e delle coste campane, con uno striscione con la scritta giù le mani dalla costa srotolato dai volontari dell'Associazione Ambientalista all'altezza della spiaggia di Santa Teresa a Salerno con sullo sfondo la costiera amalfitana colpita nei giorni scorsi da un'enorme frana a causa di lavori abusivi sui costoni della Divina Costiera. Ancora una volta l'aggressione cementizia alle coste campane rimane la piaga di cui la Campania e l'intero paese stenta a liberarsi. La Campania detiene anche il primato nazionale del cemento illegale sulle coste con il 17,1% dei reati accertati in Italia. Si registra un vero e proprio record di infrazioni, 1.715 con un aumento del 20% rispetto allo scorso anno con 1.300 persone denunciate e arrestate e 395 sequestri effettuati. Accanto alle villette denuncia Maria Teresa Imparato, presidente regionale di Lega Ambiente. Le cronache locali ci raccontano di una miriade di chioschi, ristoranti, parcheggi, piscine, strade tracciate sulle dune e scalette scolpite nella roccia, licenze, edilizie fantasma, ordinanze di demolizioni non eseguite e richieste di sanatorie mai vagliate in Campania le demolizioni sono al palo. Giù le mani della costa è un territorio che è già a maglia nera, la Campania è a maglia nera per il cemento illegale, quello abusivo. 1.700 le infrazioni che sono state certificate l'anno scorso dagli antipreposti e pochi giorni fa ancora, ancora grandi operazioni a danno dei cittadini della sicurezza, anche questa è sicurezza, una declinazione che in questi giorni stiamo provando a raccontare. Lo raccontiamo grazie alla tappa di Goletta Verde ma raccontiamo anche che le tante certificazioni di edilizia abusiva non vengono poi demolite, il 90% degli abusi subito dopo non viene demolito e quindi oggi accendiamo i riflettori in questo posto simbolico con la costiera amalfitana alle spalle, costiera che continuando così sempre più aggredita non sarà più la bellissima costiera amalfitana. Oggi per questo blitz avete scelto la spiaggia di Santa Teresa, un luogo che più volte negli ultimi tempi è stato oggetto di denunce e di scarichi anche illegali. Sì esattamente, gli scarichi illegali danneggiano i nostri mari, le nostre acque e la salute dei cittadini, per questo la Goletta Verde ha campionato 31, ha monitorato 31 posti in campagna. Lunedì presenteremo le analisi fatte dai nostri volontari insieme al Comitato Scientifico. Con il Covid quest'anno ci si attendeva una costa un po' più pulita, un mare più limpido ma invece poi alla fine sembra non essere così. Sembra non essere così perché mancano i depuratori, manca il collettamento, la campagna ha tre infrazioni comunitarie, quindi noi paghiamo molte salate come per i rifiuti così anche per la depurazione all'Europa. La depurazione deve essere prioritaria, quindi politiche prioritarie per collettare i comuni, sono 55 i comuni campani che ancora non hanno un collettamento, quindi non hanno depurazione e molto spesso anche l'acqua che esce fuori dai depuratori non è acqua del tutto depurata, quindi c'è bisogno anche di fare un revamping, di innovare i depuratori esistenti. A tutto ciò oggi il Covid fa aggiungere anche uno smaltimento non corretto di guanti e mascherine. Quelle che abbiamo trovato sulle nostre spiagge con l'indagine Beach Liter, allora ricordiamo prima di tutto di tenere la mascherina, di essere un bagnante, un turista responsabile ma anche di essere sostenibile, quindi di metterla negli appositi contenitori, va conferita nell'indifferenziato e magari invece di usare quella lavabile certificata invece di quella useggetta. L'altro ieri eravamo lì proprio al canale dell'Agnena per ricordare la vergogna di quei giorni e la vergogna di acque che appunto arrivano dalle nostre case e non sono ancora depurate e per questo abbiamo avviato la Costituzione di parte civile, seguiremo e chiederemo di appunto di punire questo ecoreato. Oltre 5 milioni di euro dalla Regione Campania per il completamento della rete fognaria e la messa in sicurezza idraulica del Comune di Sarno. C'è un piano di interventi importante per Sarno che consente l'eliminazione complessiva degli scarichi in ambienti, un tassello che fa parte della fitta tela di opere realizzate in programma nei comuni dell'Agronocerino Sarnese. Si è aperto con la visita alla sorgente di Santa Maria Lafoce, l'incontro di ieri mattina dedicato alle tematiche relativi al servizio idrico integrato. Il sopralluogo a cui hanno preso parte il presidente di Gori, Michele e Di Natale, il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, il presidente dell'ente idrico campano, Luca Mascolo e il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, ha interessato la centrale in cui si raccolgono le acque delle sorgenti di Santa Maria Lafoce, Santa Maria di Lavorate e Cancello. Un impianto gestito da Gori dall'aprile del 2019 che serve circa 19 comuni, telecontrollato e oggetto di numerosi interventi di efficientamento e messa in sicurezza. Altro momento di discussione è l'incontro che si è svolto presso l'Aula Consiliare del Comune di Sarno, con un approfondimento sulle opere che in particolare interesseranno proprio la città che al fiume deve il suo nome e le sue origini. Il risanamento del fiume Sarno è parte del problema del mezzogiorno. La sua risoluzione invece è un bel esempio di proficua interazione tra tutte le realtà preposte, ha dichiarato il presidente della Gori, Michele Di Natale. Il luogo è anche particolarmente ameno e bello. In questo momento siamo vicino questa cascatella che rappresenta uno dei punti di passaggio di un vecchio alveo naturale, oggi diventato canale, che restituiva anticamente le acque della sorgente direttamente nel fiume Sarno. Oggi gran parte di queste acque vengono intercettate per gli scopi acquedottistici dall'impianto che è vicino alla cascata e però una parte delle acque sorgentissime viene sempre rilasciata all'interno dell'alveo in modo da avere un rispetto per la sensibilità biologica e naturalistica del sistema fluviale. Il fiume nasce assolutamente cristallino e deve diventare di nuovo tale anche lungo il suo percorso. Questo significa che dobbiamo completare gli interventi che abbiamo programmato in un accordo regione, ente idrico campano, Gori che è il soggetto gestore, per che nessun refluo arrivi nel fiume e tutti vengano recapitati alle loro tre destinazioni finali del bacino idrografico che sono i depuratori di Angri, Scafati e Castellammare. Parlare di fogne è la parte finale ma noi parliamo di ciclo integrato delle acque e questa è una dimostrazione vera, vera, reale di che cos'è il fiume Sarno. Questo è il fiume Sarno. Nell'ambito di una mirata attività di controllo sul territorio di competenza, i finanzieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Ciro Sannino, hanno scoperto un ristorante irregolare in località Batolla di Perdifumo, dove tra l'altro lavoravano due dipendenti completamente in nero. All'esito dei riscontri, infatti, le fiamme gialle hanno accertato che l'attività veniva gestita come associazione enogastronomica locale, ma in realtà i clienti non erano solo i soci della stessa, ma anche persone esterne che nulla avevano a che fare con lo scopo sociale del club. Tale ristorante, tra l'altro, era censito su TripAdvisor con oltre 350 recensioni, dalle quali si è vinto ulteriormente che l'attività ristorativa veniva svolta in maniera difforme alle finalità associative, ovvero come una normale impresa. Pertanto, le fiamme gialle cilentane hanno ricostruito le dichiarazioni reddituali dal 2013 ad oggi, dalle quali è risultato che l'Associazione non ha mai versato all'erario le dovute tasse per l'esercizio, per un'evasione complessiva in corso di quantificazione. Il presidente dell'Associazione rischia ora anche una pesante sanzione pecuniaria per il personale irregolare in forze. Tra questi, un cameriere risultato anche percettore del reddito di cittadinanza, beneficio che gli verrà a breve revocato. Per tali infrazioni il locale rischia la chiusura. Ore 11 e 30, proprio mezz'ora prima della presentazione ufficiale della stagione calcistica della Cavese, giunge all'Holiday Inn di Cava dei Tirreni la notizia di un'anomalia riscontrata su un tesserato aquilotto, quindi si sospetta un contagio da nuovo coronavirus, ragion per cui la preannunciata conferenza stampa, che avrebbe dovuto svolgersi nell'aula magna della struttura alberghiera, è stata annullata, poiché è in corso un accertamento sanitario sul tesserato in questione, come previsto dal rigido protocollo anti-covid-19 della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il soggetto sarebbe asintomatico. Avrebbero dovuto partecipare il presidente Massimiliano Santoriello, la dirigenza, l'allenatore Giacomo Modica e il suo staff, ma per tutelare tutti quanti si è creduto opportuno annullare l'appuntamento. Anche il ritiro di Nusco, che avrebbe dovuto iniziare domani e durare fino al 29 agosto, potrebbe cominciare qualche giorno più in là, ma se le controanalisi sul tesserato della Cavese dovessero dare esito negativo, non ci sarebbero problemi a iniziare secondo la data prevista. Il solo dirigente presente all'albergo è Riccardo Tanimi Adinolfi, uno dei vicepresidenti della Cavese. Voglio ringraziare la proprietà, Santoriello, Giovanni, che mi hanno fatto questo regalo, nominarmi vicepresidente. Veramente vi abbraccio forti perché in tutti questi anni che sono stato in società mai mi era stata data una mansione così grossa. Io la rispetto perché sono un tifoso della Cavese. La cosa importante è che noi nel 2020-2021 giochiamo in casa, giochiamo a Cava, abbiamo uno stadio un po' nuovo e non vediamo l'ora di iniziare, nei migliori dei modi. Allora lei, siccome è anche un noto tifoso della Cavese, penso che lei potrà interpretare al meglio il pensiero dei nostri sostenitori, sarà una sofferenza per loro non poter entrare allo stadio? Penso proprio di sì. Però, oddio, ingrociamo le dita perché, come dicevo il vostro collega prima, il nostro ministro ci ha promesso, ci ha promesso, se nelle possibilità di far entrare almeno una percentuale di pubblico per noi già è una cosa importante e, vi ripeto, il calcio senza la gente non ha nessun valore. Grazie a tutti.